Passo in avanti molto importante, dopo la gara, attendiamo ormai a giorni, ce lo comunicheranno probabilmente anche oggi, i tempi della stipula del contratto sui due lotti Interporto Manopello Scafa, ora si entra nel vivo del dibattito pubblico e si andrà a breve con un calendario che viene presentato a conclusione di questo dibattito pubblico per definire anche la parte di progetto che riguarda dall'inizio, da Pescara fino a Chiedi, che è un altro passaggio fondamentale, per decenni è rimasto bloccato dall'antica contesa sull'attraversamento di San Buceto ed è un segnale molto importante per lo sviluppo del territorio, si va avanti su una ferrovia che è fondamentale, la spina dorsale dei collegamenti della nostra regione verso la capitale e lascia anche questo ben sperare per il proseguio, oggi RFI citerà anche le date e i tempi per concludere l'avanzamento progettuale e l'apertura del dibattito pubblico nel corso di questo anno anche per gli altri lotti che riguardano la parte che va verso Roma. Si completa la squadra di giunta, siamo già a lavoro, spero che domani, dopo domani, insomma che il Consiglio regionale nelle prossime ore faccia presto anche la formazione delle commissioni per restituire a questa legislatura la piena operatività, c'è tanto lavoro da fare.